Veronica è una ragazza di 28 anni originaria di Roma ma piantata a Milano da due anni che tre anni fa ha cofondato e aperto la sua startup innovativa e ha inventato e creato la prima tecnologia applicabile alle calzature da donna che consente al tacco di essere regolato in altezza. È stato indubbiamente complicato. Parlando a 360 gradi si è da un punto di vista di iniziare un percorso nuovo creando da zero qualcosa che prima non esisteva alla difficoltà di essere una giovane donna che deve in qualche modo farsi spazio nel mondo e acquisire credibilità agli occhi delle persone quindi diciamo che non è stato semplice. Se fossi nata uomo indubbiamente avrei avuto delle facilitazioni e alcune problematiche magari o circostanze le avrei vissute in modo in modo diverso. Nessuno mi ha mai esplicitamente detto che il ruolo che ricopro è un ruolo prettamente maschile piuttosto che femminile però le difficoltà concrete che sono state affrontate nel percorso confermano un po ecco questa questa domanda. Da donna è stato ancora più complicato perché ho dovuto studiare il triplo probabilmente rispetto a una persona del sesso opposto che avrebbe voluto intraprendere il mio stesso percorso. La prima parola chiave in assoluto è resilienza perché soprattutto quando si parla di start up e appunto di innovazione la resilienza è la chiave in qualsiasi situazione in qualsiasi circostanza soprattutto nei primi momenti del percorso. La seconda è la determinazione che è qualcosa che personalmente conosco bene e perché mi ha accompagnato e più che altro molte persone con cui mi sono relazionata mi hanno riconosciuto quindi sicuramente essere una ragazza determinata che sa quello che vuole con le idee ben chiare fa la differenza e la terza è la pazienza perché ad oggi siamo tutti abituati a vivere in un mondo molto veloce vogliamo qualcosa si ordina vogliamo leggere vai su google fai una ricerca è tutto molto a portata di mano molto semplice nel mondo diciamo di un'azienda non funziona così le aziende che oggi noi vediamo e conosciamo bene che sono al successo e sono arrivate al successo sono partite 10 20 anni fa quindi è molto molto importante riuscire ad avere un approccio propositivo anche nei momenti bui ed essere pazienti e credere soprattutto in quello che si sta facendo non è diciamo un aspetto semplicissimo soprattutto perché entrano in gioco degli equilibri relativi proprio al fatto che una persona diciamo che svolge il lavoro che svolgo io per la maggior parte del tempo deve essere proattiva deve essere appunto un po' generale che controlla e gestisce e gestisce tutto quindi c'è un po' un alternarsi tra un'energia maschile che deve essere preponderante nel luogo di lavoro con appunto l'energia femminile che invece ci porta a vivere la nostra realtà perché siamo donne e quindi abbiamo determinate necessità nel mio caso non è ancora arrivato il momento in cui io sono arrivata ad un equilibrio totale a 360 gradi però è sicuramente qualcosa su cui sto lavorando e che sto cercando di priorizzare al massimo la storia anche ci insegna che non va bene stare soltanto nel luogo di lavoro fare il massimo essere riconosciuti per poi avere una vita privata un po' povera ci vogliono ambe due le cose secondo me sì purtroppo mi è capitato di ricevere commenti molestie o insomma comportamenti non idonei sul luogo di lavoro mi sono ritrovata a far fronte a delle dinamiche non troppo facili da vivere sono sempre riuscita a reagire in modo da non farmi mettere i piedi in testa e quindi in qualche modo la mia volontà di allontanarmi da quella circostanza cioè quel determinato avvenimento mi faceva capire che quello non era il posto adatto a me le persone adatte a me quindi automaticamente poi me ne tiravo subito fuori qualche anno fa mi sono ritrovata in società a collaborare con un collaboratore che ce l'aveva proprio a morte con le donne si percepiva proprio e non riuscivo a trovare un dialogo che potesse matchare le esigenze che avevamo con la società con il suo modus operandi fino a che un giorno all'ennesima diciamo call in cui lui era stato senza entrare troppo nel dettaglio però ha retribuito per un lavoro che poi non era stato svolto io ho cercato di metterlo un pochino davanti alla realtà facendogli capire che non aveva davanti delle persone stupide questo signore si è permesso di alzare la voce inizia ad insultare me e non il mio socio perché è un socio uomo e insultare me e insultare la società riferita a me la mia figura è anche molto piccolina, mingerlina sembro anche più piccola dell'età che ho perciò lo sforzo che mi ritrovo a fare molto spesso è maggiore di quello che gli altri pensano secondo me è molto importante che le donne riescono a fare rete tra di loro vai passando alcuni limiti umani relativi appunto a invidia o diciamo sentimenti non troppo evoluti d'altro canto spero che questo possa diventare presto un topic di cui non si parla più perché nel momento in cui non se ne parlerà più significa che è finalmente diventata la normalità il messaggio che darei a altre donne, ragazze come me è quello di non scendere mai a compromessi diciamo che se una persona si prefissa un obiettivo e durante il suo percorso, il suo cammino succede di incontrare qualcuno che ti mette alla prova con richieste o affermazioni poco carine, idonee non bisogna scendere a compromessi in nessun caso secondo me